Il futuro della professione degli psicologi deve fare i conti con le modifiche apportate nel codice deontologico lo scorso 25 settembre. Con oltre 9.000 sì, la comunità professionale di tutta Italia, con un referendum, ha aggiornato il codice dopo 25 anni dalla sua adozione. Le principali modifiche sono state illustrate a Bari nel corso di un convegno. Si è reso necessario adeguare alle nuove normative che nel frattempo sono sopraggiunte a livello di normativa nazionale e di tener conto nel senso di recepirle all'interno del nostro codice deontologico. Le modifiche più importanti per esempio riguardano anche degli aspetti di tipo formale oltre che di contenuto. Mi riferisco al fatto che per ogni articolo, adesso con la nuova versione, c'è una titolazione di ogni articolo. Prima c'era solo il numero, adesso il titolo definisce anche il contenuto dell'articolo. E questo credo che sia un aspetto estremamente importante che rende poi più agevole anche la comprensione e l'applicazione del codice deontologico. Questo comporterà la realizzazione di corsi di formazione oppure comunque, come mi diceva lei, è calato tutti gli iscritti, hanno scelto, però comunque la formazione per il nuovo codice servirà sicuramente? Sicuramente sarà necessario, opportuno oltre che necessario, avviare degli aggiornamenti dei corsi di formazione. Del resto, proprio l'aggiornamento e la formazione in deontologia professionale è uno degli obiettivi formativi dell'obbligo di formazione di tutti gli psicologi come anche delle altre professioni.